Eccoci qua, eccoci qua brava gente. In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire questa generazione è una generazione malvagia, essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno Eccoci qua, è andato via il tablet, perdonatemi, è brava gente. Eccoci qua. Se non il segno di Giona, poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Eccoci qui, brava gente. Oggi il Signore adopera delle parole abbastanza dure, forti. Io ho titolato sul nostro testo, buongiorno brava gente, come ho titolato per chi ha il libro davanti, è Non segnali stradali, ma santi della strada, brava gente. Non segnali stradali, ma santi della strada. Cosa vorremmo dire con questo, brava gente. Oggi Gesù muove un grande rimprovero ad un'intera generazione, che va da lui cercando un segno. Strano, vero, brava gente, eh? E allora chiediamoci cosa vuol dirci Gesù, mentre è in cammino verso Gerusalemme. La fama si era diffusa e nei tratti di strada si accarcava molta gente. Cogliamo in ciò l'invito con cui Thomas Merton si rivolse a Papa Giovanni XXIII, offrendo al pontefice, come un monaco che si nutre di silenzio e di assiduità alle scritture, una lettura contemplativa della storia che vive. Si tratta di saper leggere ciò che accade, come aveva fatto Gesù a suo tempo. È come se Gesù si stesse rivolgendo anche a noi e ci invitasse a leggere la sua persona. Sì, brava gente. Io credo che anche noi oggi forse diciamo, signore, dacci un segno, eh? Dacci un segno, facci vedere che sei potente, no? Elimina questa guerra all'improvviso, eh? E forse Gesù ci rimprovererebbe, ci direbbe, brava gente, ma voi cercate un segno e avete me? Vedete che verranno generazioni che vi condanneranno. Allora, attenzione, brava gente, attenzione, lo dico a me, lo dico a voi, eh? C'è un filo rosso che lega le pagine della Bibbia dall'Antico al Nuovo Testamento. Un invito a leggere, a entrare e a scegliere la storia. L'invito della folla è, signore, dacci un segno. Ma Gesù dice che non ci sarà dato altro segno se non quello di Giona. Vorrei porre una riflessione perché Gesù provoca così fortemente. Cioè, dobbiamo porre questa domanda, brava gente, ma perché Gesù, eh? Sta rispondendo, se volete, anche un po' in malo modo. Perché c'è differenza tra essere segno ed essere segnale. I segnali stradali sono vanitosi. Ovunque li troviamo sono posti, in alto, curati dai professionisti dell'estetica. Vogliono essere visti da tutti. No, brava gente, eh? I segnali sono, hanno questo, come potremmo dire, questo aspetto un po' vanitoso. A essi Gesù preferisce i compagni di viaggio, quelli che non stanno fermi a dettarti le indicazioni, a spiegarti la strada. Ma sono capaci di premura, che sanno dirti, ti vengo a prendere io. Il segno non indica, ma ti accompagna. Il segnale, invece, ti dà solo la direzione. Il segno parte da casa per venirti a prendere. E tutto ciò non vale solo per le indicazioni del paradiso, ma anche per il farsi presenza, come afferma Pietro Marco Boselli. Sentite cosa dice questo personaggio, questa persona. Te la senti di incoraggiare il sofferente? Scrivete bene, brava gente, perché qui ci stiamo dicendo anche il senso di quello che sta accadendo oggi davanti ai nostri occhi, davanti alla nostra incredulità, dinanzi al nostro. Ma perché la guerra nel 2022? No? Ma signore, ma dove sei? Allora sentite questa affermazione. Te la senti di incoraggiare il sofferente, dicendogli che è un privilegiato, o meglio sarebbe per lui e per te, restargli vicino in silenzio. In paradiso non troveremo segnali stradali, ma i santi della strada. Sì, brava gente. Come afferma Don Marco Pozza, è un pentacolo che fa soffermare il cuore a Cristo. Alla perfezione asettica di cuori senza anima, preferisce di gran lunga l'imperfezione di chi, provandoci, fallisce. Il contrario sono i segnali stradali. Si pensano già santi, stanno con il dito puntato. No, brava gente, noi non vogliamo stare col dito puntato. Noi vogliamo farci presenza, vogliamo darci da fare per chi soffre. Vogliamo sì versare le lacrime di chi ha un cuore debole, perché si muove a compassione. Vogliamo essere delle persone che dicono se c'è un po' di spazio, faccio spazio all'altro. Vogliamo essere presenza, brava gente. La presenza della preghiera. E facciamo sentire a questo popolo che soffre, ci siamo. Sono qui. Ecco, il Signore ci vuole delle persone, sono qui. Io stasera vorrei concludere, lo dico soprattutto alle donne, ma anche agli uomini, perché poi gli uomini fanno così, i maschi, hanno un cuore tenero, sanno lanciarsi a capofritto, sanno correre di più. E cioè, sono qui. Ecco, io direi che i santi, che la brava gente è quella che dice sono qui, sono qui, sono qui, brava gente. Allora ce lo scriviamo? Vogliamo essere di quelli che dicono sono qui? Sì o no? Vi voglio sentire, brava gente. Vi voglio sentire, no? Eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Allora, vediamo se uno, due, tre. Mia, Maria, Marco, vogliamo essere di quelli che dicono sono qui? Eh? Sì o no? Sì o no, brava gente, eh? Vedete come... guardate in alto, eh? Uno, due, tre. Voglio fare una cosa. Vogliamo essere di quelli che dicono sono qui? Guardate in alto lì. Quella Madonna cosa sembra dirci? Cosa sembra dirci? sono qui? Sono qui. Ecco, i santi come Maria sono quelli che dicono sono qui. No, brava gente, sì o no? È così, è così. Bene, non la voglio fare lunga, andiamo, andiamo ai saluti, eh? Andiamo ai saluti e un abbraccio a tutti. Forti, forti, fortissimi, eh? Fortissimi, Anna, Anna ancora, Marianna, Sabrina, Mirko, eh? Avanti, avanti. Bene, vado ai saluti allora, che fa freddino stasera, brava gente, sapete? E... Angelo e Carlo, eh? Intanto prima di saluti vi ricordo l'email enzochiocciolasanfrancesco.org, enzochiocciolasanfrancesco.org, eh? Vi ricordate? Eh? Poi, che vi dovevo ricordare più? Mi sono dimenticato, no? L'email ve l'ho detta, quella è la cosa più importante. Se a volte non rispondo, perdonatemi, io cerco di stare vicino a tutti, ma siete in tanti, eh? Siete davvero in tanti. Se a volte le risposte sono brevi, ma sappiate che c'è tutto me stesso, eh? E avanti, avanti. Pregate perché sabato saremo a Gerusalemme, sabato sera, sono andato qua proprio dalla Madonna stasera anche per chiedere la protezione di questo viaggio. Eh? E poi sabato, domenica sera vediamo, adesso sono in interlocuzione con i frati minori della Terra Santa per vivere un momento anche la sera in uno dei luoghi più santi, eh? E lì pregheremo per la pace, quindi segnatevi o sabato o domenica, ma vi avviserò sicuramente, eh? Perché ci collegheremo in tanti, eh? Con i luoghi santi, proprio in tanti, eh? Quindi segnate, passate parola, mh? Bene, mettete condivido, prima che mi dimentica anche questo, condivido, eh? E poi segui, sono le due cose che vi chiedo perché mi scrivete, non arriva la notifica, io non so come dirvelo, però brava gente. Eh? C'è la campanella, quando mettete segui vi compare la campanella e lì, eh? Quando mettete condivido, no, no, segui, giusto, vi compare la campanella e vi arriva la notifica, hm? Va bene? Poi ogni tanto lo ripeto perché so che molti si 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 aggregano ogni sera, ci sono tante persone nuove che saluto, abbraccio, do il benvenuto tra la brava gente, però dobbiamo essere brava gente, eh? Dobbiamo essere brava gente, non è che siamo solo il gruppo di brava gente, no, dobbiamo essere brava gente, hm? E avanti, come ci vuole San Francesco. Bene, allora, vado ai saluti, Angelo e Carlo vorrebbero una preghiera e gli auguri per il nipote, per il nipote Eric, vent'anni oggi, Eric mi raccomando, eh? Falle arrabbiare i genitori, eh? Avanti, no, che scherzo. Poi Barbara vorrebbe gli auguri per i 65 anni del cognato e una benedizione per tutta la famiglia, sicuramente, eh? Ogni bene. Ursula vorrebbe una benedizione e una preghiera per la sua salute e quella della famiglia. E poi per Thomas, eh? Avanti, Thomas, coraggio, coraggio, forte, forte, eh? Forte, mi raccomando. Ehm? Certo vorrei ricordare qui anche ai piedi di Maria, me l'avete inviata, tante belle frasi, la sintesi di quello che ha detto Papa Francesco. La guerra è una vergogna, la guerra è una follia, la guerra è una pazzia, eh? Bene, Antonella e Franco da Pompei li saluti, mi raccomando, fate i bravi, eh? Ogni bene, salutate i vostri studenti, poi verremo, verremo, avete invitato e ci verrò. Antonella per la sorella Fiorella, coraggio, coraggio, ogni bene. Poi i nonni Angela e Carlo, l'abbiamo detto, sì, per il nipote Eric, due volte, stasera il tocco due volte, Eric, forte. Gabriella, eh, Garcia, Miur, per Diego, che sta in paradiso, ogni bene, ogni bene anche a te che ci chiami dal, dal Messico. Rosanna, ha detto che ha preso, ha fatto la terza dose di vagina, un po' spaventata, di vaccino, coraggio, coraggio, eh? Avanti. Poi Rosanna ancora Suglia, eh? Si ricorda la frase dei nonni, ma è più la guerra, eh? Avanti, avanti. Anna Rita la gala per la figlia Carmen e poi salut coraggio, forti. E poi Sergio Chiamberlando ha dato una bella lettera sulla pace nel mondo, dice però iniziamo dalla pace nel nostro cuore, dalla pace nelle nostre relazioni, senza litigare, una bella testimonianza che lo saluto, Sergio, eh? Ogni bene alla tua famiglia, sì che mi ricordo. Avanti, vi lascio, vi lascio, eccoci qua, con Maria e a lei vorrei dire la una delle preghiere più antiche, eh? Per noi, per le donne, per i popoli in guerra che soffrono, sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine, gloriosa e benedetta. sapete, brava gente, questa è una delle preghiere più antiche dedicate a Maria. Buonanotte, brava gente, buona giornata, brava gente. Mettete, segui, mi raccomando, e condivido, eh? Ogni bene, ogni bene ancora.